L'emergenza incendi che da un paio di settimane tiene con l'infiato sospeso l'intera provincia di Fibo Valencia e costringe vigili del fuoco a turni massacranti ha fatto una nuova vittima. La tragedia si è consumata a Favello, un'infrazione di Cessaniti in un ondiveto di proprietà di un uomo di 68 anni, Antonino Purita. I familiari lo hanno trovato cadavere ieri sera intorno alle 22.30. Purita aveva tentato di spegnere l'incendio divampato nel suo ondiveto ma è precipitato in un dirupo ed è morto avvolto dalle fiamme. È stato rivenuto parzialmente carbonizzato. Andato nella sua proprietà, forse per tentare di spegnere le fiamme di un incendio che minacciava l'oliveto, molto probabilmente per via del fumo sprigionato dal rogo, ha perso i sensi ed è finito in un fosso. A scoprire il corpo senza vita del pensionato sono stati i suoi familiari che, preoccupati per non averlo visto rincasare, sono andati a cercarlo in campagna. L'atroce circostanza è che Antonino Purita era lo zio di Maurizio, il giovane morto otto mesi fa sempre in una campagna di Favelloni in seguito ad un incidente con il trattore. Il pensionato di Favelloni non è la prima vittima di questa ondata di incendi nel Vibonese. Nei giorni scorsi a Zungri anche una donna, Maria Cichello, di 71 anni, era morta a seguito del fumo causato da un incendio mentre aveva cercato rifugio in un casolare. Intanto, dalle prime ore del giorno, gli equipaggi di Canadair ed elicottero della frotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile a supporto delle operazioni svolte dalle squadre di terra, hanno ripreso le operazioni di spegnimento dei tanti incendi boschivi che ormai da giorni non accennano a diminuire.